Ciao a tutti ragazzi da Corazzo di Nuova e ben interessati sul mio canale per questo unissimo video. Oggi sono qui con una nuova parte di Pokémon Art Academy, l'ora dove eravamo rimasti qui. Provinziali fatte, corso principiante è fatto, prova di finale principiante è fatto, corso apprendisti è fatto, a parte lo snide che comunque devo fare io, fare della parte e mi dimentico sempre, vabbè. E siamo ragazzi alla prova finale apprendisti, cominciamo la prova. In pratica bisogna fare questo Pikachu qui con tutte le ombreggiature, in pratica sarà un casino. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vediamo, Pikachu! Adesso ho già paura io. Allora, matita, matita, porca miseria. Ah, ragazzi io faccio già fatica. Schifo. Buah, adesso è già meglio. Noto che si vede un po' pochino. Provi finali su saper più bastardo perché bisogna disegnare Pikachu che non è affatto facile. A parte che io salterei in tronco la parte con la matita, abbiamo fatto così schifoso, ma tanto dopo bisogna ripassare. E così? Eh, che cosa c'è? Tutto pasto, ok. Uff, ragazzi ho paura, vediamo. Qui mi hanno tolto le indicazioni pure grande proprio. C'è una cosa, ragazzi, dato che la cosa dura un po', taglio un attimo e finisco questa parte. Eccoci, ragazzi, non ci assumiamo neanche un pochino, però vabbè. Capitemi, ragazzi. Ombreggiatura. Perfetto, ragazzi. Vedi, ombreggiatura. Vedi, ombreggiatura. Vedi, ombreggiatura. Vedi, ombreggiatura. Dai, non buttiamoci tanto giù. Vediamo se possiamo fare una cosa del genere. E va bene anche così, se no lo peggiora basta. Non ho letto cosa bisogna fare. Giorno, non ho letto. Ah, così? Va bene. A bocche. Sono in certi punti proprio così. No, ancora, ragazzi. Non ce la faccio qui, fa già troppo schifo. Illuminiamo un po' il disegno. di punti a punto che non erano oscurati. Quindi da ombreggiatura a lumeggiatura. Vado così, ragazzi, velocemente. Cosa? Non basta. Mi sistemano anche un po'. No, è troppo. Mi sistemano un po'. Mi sistemano un po'. Mi sistemano anche un po'. Gli occhi magari farà... C'è qualche colore. Ragazzi, basta. Basta, ragazzi. Odio questi disegni così. Lo giuro, le odio. Uno dei peggiori disegni che abbiamo fatto, ma ragazzi, oggi non è giornata. finita, ragazzi. Non vedevo l'ora. Comunque è sicuramente meglio il suo. Non fa poi così schifo, però poteva essere molto migliore. Vado bene, ragazzi. L'importante è essersi preso il diploma. Vado bene così. Da, invitiamoci sul sfondo per comprire il suo proprio. Se per la portare in secondo piano, picca su cosa è vero, non si... Bene, ragazzi. Comunque l'importante, come detto, è aver fatto questo disegno e quindi essersi preso, ragazzi. Il diploma da apprendisti. Grandissimo. Grandissimo. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Andiamo. Dai, un altro miglioramento c'è stato. Ma secondo me era meglio prima addirittura. Di diploma, yeah. Perfetto. Olè. Esperto, ragazzi. Cominciamo con Esperto. Ragazzi. Ragazzi. Oddio. Ho visto un Charizard. Oddio, oddio, oddio. Mewtwo. Charizard Mewtwo. Vulpix e Silvio. No. L'Apris Lucario. Oddio, ragazzi. Oddio, 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 oddio. L'importante adesso è che si sia ridotto ancora di più perché sono sempre in tre, però adesso sono in due qui. Quindi sapete che io ne faccio... Cioè, per voi non cambia nel senso che ne faccio una sezione, quindi sono sempre tre. Però per me cambia perché ne faccio solo uno fuori dalla parte. Invece da farne due o addirittura tre come era all'inizio. Ragazzi, epico questo. Scusate. Super epico questo, ma questo, ragazzi, senza parole, veramente. Charizard Mewtwo. Cioè, ragazzi. Quindi adesso ci sarà un corso esperto e poi ci sarà il fine del corso esperto e poi l'otto sarà penso un corso finale assoluto. E poi, ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo video che faremo un Vulpix o Silvio. Vulpix dai, Vulpix. Noi ci vediamo, ragazzi, con un bel piacere, con un bel piacere e commentare. Un saluto per voi. Buongiorno a tutti. Ciao.